Allora, ora vedete il video, no? Stai vedendo il video? Ok, perfetto. Allora, perfetto, alla grande. Allora, lo rifacciamo e mi dovete dire voi, quando nel video che vi mostro sentite più tensione. Solo questo dovete fare. Molto semplice. Grazie. 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 Ok, quando è che avete sentito più tensione? Vabbè, Gabriele, tu lo sai. Vabbè, siete d'accordo, insomma? Cioè, non è che avete sentito più tensione prima, diciamo. Luigi, tu che ne pensi? Gianluca, che ne pensi? Quando si avvicina? Perfetto. Vi è mai capitato di avvicinarvi così tanto frontalmente a una ragazza? o lo evitate sempre? Perché se lo evitate sempre è normale che non scopiate. Perché così si scopa, raga. Così si scopa. Punto. Cioè, non ci sono grosse altre cose. Ok? Cioè, se tu sei un uomo e hai la capacità di restare tranquillo in quel tipo di tensione, scopi. Bravissimo, Luigi. Luigi dice, anche poco prima lei inizia a smorzare guardando a terra. Un'altra cosa che fanno le ragazze per smorzare cos'è? Incominciano a ridere in maniera isterica e lo fa anche la ragazza della scena che vi ho fatto vedere. Tra l'altro, non è un caso che questa serie sia scritta da una donna. Non è una serie che vi consiglio. In realtà, nessuna delle scene che vi farò vedere vi consiglio di vedere tutto il film, tutta la serie. Sono delle cose che ho preso da varie cose, più o meno interessanti, in cui però, per quanto riguarda la tensione erotica, quello è, ragazzi. Quello è. Lei è tesa. Lei è tesa, ma è buono. Cioè, quando voi cercate sempre di smorzare la tensione perché vedete tesa la ragazza, state sbagliando. L'attenzione fra uomo e donna è una cosa perfettamente buona e giusta e sana. Avete presente quando entrate con qualcuno in ascensore? Il momento è teso. Si cerca sempre di guardarsi intorno, di smorzare, di dire una battuta, comunque di parlare. Perché? Perché parlare, appunto, essendo un segnale non onesto, falsificabile, smorta la tensione. Invece, se io mi metto a guardarti, zitto, aumenta la tensione. Perché quello è un segnale non falsificabile. Cioè, non può significare altro. Ti sto guardando perché ti voglio scopare. Cioè, sei un uomo, ti sto guardando perché ti voglio ammazzare di botte. State entrando nell'ottica? State entrando nell'ottica? Queste sono le donne, ragazzi. Ed è davvero così facile farle arrappare. Cioè, quello che avete visto funziona davvero. È esattamente così nella realtà. Vi è chiaro? Avete la mente che vi esplosa? Se tu non rifugi sta cazzo di tensione, perché hai il cazzo duro, succedono queste cose. Ragazzi, vi potete scopare le tipe durante la serata. Gianluca, le donne si masturbano. Sì, 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 sì. Fateci caso, comunque. Non vi ho fatto vedere questa cosa senza motivo. Ve l'ho fatta vedere perché è quello che accade nella realtà. Quindi mi aspetto che voi, oltre a mangiare grassi, da domani vi avvicinate in quel modo alle tipe. Ora, che significa che adesso è una tecnica, io lo devo fare immediatamente perché mi l'ha detto Bux. Se conosci una tipa, ci parli bene, scherzate, eccetera. Quando è il momento di premere il cazzo di grilletto, uscire allo scoperto, fai quel genere di cose. Ditemi se vi è chiaro anche questo. Perché, appunto, vanno spiegate tutti i dettagli, purtroppo. Cioè, una cosa ipernaturale che è uomo e donna, se si avvicinano, si arrapano, va fatta un casino di spiegazione sui vari dettagli, perché la gente crede che anche quello sia una tecnica. Se è una cosa che ha deciso la natura, come può essere una tecnica? Cioè, io so semplicemente che avvicinandomi le donne si arrapano, pure se mi dicono di no. Cioè, durante la scena là non è successo niente. Lei, cioè loro due non si sono baciati, però lei si è arrapata. Si sono detti che si farebbero, e poi si faranno, giustamente, anche nel racconto, ma comunque nella realtà è così uguale, si faranno dopo. Cioè, ormai se lo sono detti fisicamente, che è l'unica cosa che conta. Non è finita qui. Allora, andiamo al secondo, che è questa scena abbastanza... Fatemi capire che il mio microfono sta veramente impazzendo. Audio del video? Che dite? Oh, raga! Ah, si sente? Ah, bene. Ma in realtà non ci serve che voi lo sentiate, perché non voglio che sentiate cosa dicono. Voglio che capiate dai corpi come si comporta la tensione erotica. Quindi ora, da stronzo quale sono, vi ho tolto l'audio. Cercate di capire i momenti più tesi. Cioè, potrebbero star parlando del gioco dell'oca, capite? Non è importante di cosa si sta parlando. Cosa fai, cosa non fai. Ditemi, quand'è che la situazione diventa più tesa? Perché in realtà voi le sapete, queste cose. Sì, esatto, Nicolò, questo nel libro l'ho messo. E capite che in questo momento, lei, lì sotto, si sta arrapando come la prima ragazza che avete visto. Capite? Cioè, capite com'è facile. Cioè, bastava fare questo. Cioè, non vi sembra eccessivamente facile. La matrice alimentare vale anche per le donne? Sì, però le donne in realtà sono estremamente più infogliate di noi. Cioè, ciò che mangiano ha su di loro, sulla loro libido, un effetto diverso e meno pesante di quello che succede a noi. Perché il problema è che noi abbiamo il testosterone. E appunto, se mangiamo pochi grassi, il testosterone cola a picco. Loro, per arraparsi, al contrario nostro, non hanno bisogno di testosterone. Perché appunto, il testosterone è un fatto maschile. Loro sono costantemente sempre arrapate. Loro sono sempre arrapate. Anche se mangiano male. L'unico fatto, se mangiano male, è che sono più scorbutiche. Quello sì. Però il loro arrappamento è sempre lì. È una cosa specifica delle donne, ragazzi. Io non saprei dire perché è così. Però, purtroppo, noi soffriamo molto di più a non mangiare grassi, con la plastica, con la soia. Perché il nostro libido deriva dal testosterone. Non completamente, però in gran parte sì. Quindi, ottima domanda, ci stava. Andiamo al prossimo spezzone. E ci stava.